Buongiorno, allora come promesso oggi Luke rimarrà con me a colazione e a pranzo. Adesso ancora non si vede in giro perché non ha, credo ancora capito che sto per fare colazione, quindi ne approfitto e inizio subito a preparare qualcosa. Penso di fare una mug cake che è veloce e non devo perdere troppo tempo e lui è insopportabile quando si tira fuori il cibo. Ok, allora, utilizzo farina di avena, non mi ricordo, goccia di cioccolato, farina di cocco, albumen. Intanto si sono presentati entrambi. Eccolo che arriva. Luke! No, amore, io ti voglio un sacco di bene, ma io adesso devo fare colazione. Ciutolina, questa l'ho presa da Tiger, si è andato... Cucciolo, l'ho sgridato forse troppo. Una cimice. Luke! In compenso abbiamo di là Leila, perché sembra buonissimo, ma in realtà anche lei... No 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 non attaccare lei mi osserva lui si è andato a mettere in esilio nella sua hamaca ma forse non ha ancora ben capito che sto preparando qualcosa da mangiare perché non è abituato a stare a stare in giro quindi non ha forse ancora ben chiara la cosa e dopo la farina, l'albume e lei la ma vaffangura te che ti ha fatto e frate te pure ma quanto sei ignorante insensibile e arrogante il look del giorno è un po' storta allora tiro via tutte le farine la farina di cocco la storia è tanto in sacco in liquido le mangue a 600 per 2 minuti lui fa il buono lei baciata dal sole osserva dall'alto della macchinetta del caffè eccolo lì aiuto adesso io la devo togliere prima che se la mangia e praticamente ecco il pacchetto non so se si nota ma ha due buchi uno qua e uno qua ho aperto un attimo per mettere via dai look andiamo dai che ci sono solo te che te ne fai dai dai andiamo forza prontino si sta si sta ralleccando un po' della farina di cocco che lui ha fatto cadere questo intanto qua c'è il pane il pane vince su tutto si può notare Luke la in fondo e qua c'è Leila che gioca con una civice ma lui è preso là dal pane adesso però mi sa arriva te eccolo qua c'è Leila eccolo un po' bravetto lui vuole il pane no no che bello che sei bello e stupido bello e stupido sta continuando a cercare il pane prova l'attacco su più fronti pane questa nocciolata dovrebbe farla andare abbastanza fuori di testa infatti sta lì ad aspettare il momento giusto per colpire perché è diventato un pelino più furbetto adesso non è che attacca senza ritegno adesso aspetta il momento giusto è cresciuta la nocciolina un po' Pokemon, Pokemon Gotta catch em on Catch em on Catch em with a Pokemon Pokemon, Pokemon Catch em on Non si arrenderà mai Comunque niente Tra la mia mug cake E il suo pan e nutella Ha vinto il suo pan e nutella Luke non è un gatto Ha battuto il 5 Bravo amore Luke non è un gatto fit È un gatto fat No, prova l'attacco da dietro Da tutti i nostri stai facendo Anni e anni Pasate a fare caffè E questo è il risultato Cazzo Cattivo Un pelino Non c'è che ti ti fa meglio Ma meglio di questo No Sì, più buono quello che faccio io Vabbè, ma io non ho anni di esperienza di caffè Basta, è finito Bene, ok Bene, basta Adesso Metto tutto in ordine Il lievito Pure il lievito Pure il lievito Sì, pure il lievito Quando uno è porco Molla Molla Bene, adesso mettiamo in ordine Tutte le cose della colazione Io esco E ci rivediamo per il pranzo Che sarà ancora peggio E ci rivediamo